oh ciao lola mentre i miei elfi rovistano tra tutti i grandi libri per scoprire chi è stato buono o cattivo approfittiamone per dare un'occhiata al tuo archivio vediamo dove l'avrò messo grazie archivio rosso lo sapevo hai avuto una nottataccia ho ricevuto una lettera da tua moglie che persona dispettosa era davvero curiosa di sapere se sei nella mia lista dei buoni quest'anno così ho chiesto al mio elfo sanoma di controllare il tuo archivio dimmi sanoma hai trovato delle informazioni interessanti a quanto pare dici troppe parolacce pensi che questo andrà a tuo favore c'è ancora speranza se ti metti d'impegno potresti ricevere quel regalo che desideri sai a quale mi riferisco non è vero sanoma lo sa è meglio tornare al lavoro ci vediamo presto e ricordo di impegnarti io e i miei elfi ti auguriamo buon natale e buon anno grazie a tutti grazie a tutti